E adesso parliamo della 38esima edizione del premio Pieve Saverio Tutino che si è conclusa proprio ieri a Pieve Santo Stefano. Lo facciamo con il professor Camillo Brezzi, direttore scientifico della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Allora, questa edizione si è conclusa ieri con una partecipazione di pubblico numerosa, direi come tutte le edizioni, quelle che appunto si sono potute svolgere in pubblico, con tanta emozione. Un'edizione che è stata dedicata, il tema della 38esima edizione era cercatori di pace, mai come in questo momento ce n'era bisogno di richiamare l'attenzione su questa parola di cui anche ieri durante la giornata conclusiva si è molto parlato. Sì, mi fa piacere che lei abbia sottolineato il clima festoso, direi, del ritrovarsi così numerosi. Sono stati quattro giorni di vera festa, della festa della memoria. Noi dell'archivio ci impegniamo molto, non solo tutto il lavoro della raccolta dei diari, catalogazione, digitalizzazione, ma anche per far sì che questo clima permanga durante l'anno. Ci sono delle iniziative che specialmente Loretta Veri, le sue collaboratrici, Giulia, danno vita, per esempio diventa amico della memoria. Ecco, collegare questa amicizia e la memoria che sembrano due pilastri di questa storia dell'archivio fondato da Saverio Tutino. E' un modo per essere sempre più vicini e anche, lo dico, non mi vergogno, per aiutare l'archivio perché ne ha bisogno. Pace, sì. Ci è sembrato opportuno, in una situazione qual è quella attuale, richiamarci a un titolo della rivista dell'archivio dei diari, prima persona, del 2002. Saverio Tutino titolò Cercatori di Pace. Ed era già in un contesto molto particolare. Eh sì, era sei mesi dopo, uscì nel giugno del 2002, vale a dire sei mesi dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Ed eravamo in un clima da preguerra. Ecco, oggi siamo addirittura in un clima di guerra in Europa. E allora c'è perso opportuno Cercatori di Pace, già dal numero di Saverio Tutino, cosa voleva dire? Che l'archivio dei diari, nel suo piccolo, continua a raccogliere testimonianze, diari, memorie, autobiografie, epistolari, di gente comune che va alla ricerca della pace. Il soldato della prima guerra mondiale era per esempio un diario di quest'anno, che è stato finalista, che abbiamo titolato la guerra giusta, cioè che era un mazzignano sostanzialmente antibellicista. Però nel momento in cui la Germania invade il Belgio, la Francia, avverte l'esigenza che bisogna reagire. Quindi è un aspetto abbastanza vicino a noi. E poi ci è sembrato quindi opportuno anche dedicare il premio Città del Diario, che noi ogni anno diamo a personalità della cultura, dello spettacolo, del cinema, che utilizza nella sua professione la memoria. L'abbiamo dato a uno studioso di storia, qual è Andrea Riccardi, che ha utilizzato la memoria in molti dei suoi lavori. E che è un vero cercatore di pace. Ma è un vero cercatore, l'ha fatto, nel senso che lui, il famoso dissidio, guerra civile nel Monzambico, con la comunità di Sant'Egidio, a suo tempo sono riusciti e ancora oggi svolgono un'azione di pace in quei territori. Certo, di dialogo che porta poi alla pace. Intanto vediamo scorrere alle nostre spalle le immagini appunto dell'edizione di ieri. Perrotta che, bravissimo come sempre, tra l'altro ha reso ancora più emozionanti le letture tratte da alcuni dei diari. Intanto, in pochissime parole, prima poi di parlare del diario vincitore, Professor Brezzi, le vorrei chiedere come definisce questa 38esima edizione? Bellissima, come sempre, molto interessante, molto partecipata, perché noi abbiamo presentato sei volumi che abbiamo pubblicato quest'anno, che è uno sforzo non solo economico, ma anche proprio di organizzazione. In questo Natalia Cangi, che è la direttrice, riesce a mandare avanti tutto questo. Ci sono state, ecco, citavamo Mario Perrotto, tre serate di spettacoli interessantissimi. Donatella Allegro e Andrea Biagiotti la prima sera, la Mussola la seconda, Perrotto la terza. Cioè anche di livello, per un piccolo luogo quale siamo noi. Per un premio basato sulle parole, bellissima, il primo aggettivo per definire questa edizione. Un altro? Un altro, direi, partecipato, intrigante nel senso che la gente voleva andare a fondo. Per esempio, cercatori di pace, ecco, l'iniziativa che è stata fatta è che ad ogni iniziativa, mi scusi la ripetizione, ad ogni iniziativa che poteva essere la presentazione di un libro, un dibattito, c'erano Mario Perrotta, Paola Roscioli, Donatella Allegro, che leggevano una pagina di diario. Prima io ho detto, appunto, i diari, i diaristi che noi abbiamo raccolto in questi quasi 40 anni, e sono quasi 10.000 diari, lo ricordo sempre perché è una cifra che a me mette agitazione solo l'idea di avere tutto questo. Molti di questi sono dei cercatori di pace. Ecco, abbiamo fatto dei brani ed era molto intenso, guardi, gliene dico un altro, non so se è un aggettivo, intenso, un premio intenso. Basta adesso, ecco gli aggettivi. Sicuramente molto intenso è stato il momento in cui il presentatore, il direttore artistico dell'ultima giornata, Guido Barbieri, ha annunciato il vincitore, il diario vincitore di questa 38esima edizione, il diario di Ado Clocchietti. Clocchiatti. Clocchiatti. È difficilissimo. Già Ado è anche... Molti giornali infatti scrivono Aldo, perché non è possibile Ado. Ecco, adesso noi abbiamo l'intervista realizzata da Stefanella Baglioni al nipote di Ado e l'ascoltiamo. Oggi mi avete dato la dimensione di che valore avesse la vita di mio nonno e tutte le difficoltà che ha provato. Giuro, siccome io adesso ho una figlia che erediterà il diario, lei lavora, non intende mettere su famiglia i figli, non avrà eredi, ho scritto io nel testamento che quando mia figlia deciderà a suo tempo, manderà il diario originale all'archivio dei diari. Addio Patria Matrigna è il titolo che avete scelto per questo diario, davvero commovente, dove si parla di sfruttamento minorile, professore. Sì, Addio Patria Matrigna si riferisce tutto sommato all'ultima parte, ma si ricollega alla prima e alla parte centrale, è un diario di un povero di quelle regioni del nord che erano povere, il Friuli per esempio. È un aspetto che sappiamo, che la storia ha anche analizzato, però nell'immaginario noi sappiamo che è il profondo sud la parte povera del paese. Ecco, alla fine dell'Ottocento anche il Friuli era talmente povero che Ado a dieci anni, quando finisce la scuola elementare, il maestro dice ma tu sei bravo, devi proseguire, lui è costretto a dire al maestro non posso, io sono povero, devo lavorare. Mio padre si è ammalato, faceva il conciapelli e non può continuare il lavoro, devo portare io i soldi. E entrano in questa macchina di sfruttamento minorile, cioè dei Friulani, perché questo va detto, giravano in questi paesi, piccoli paesi di povertà, e anticipavano un po' di soldi alle famiglie, prendevano i bambini e li portavano in Baviera, in Austria, nell'ex Lugosfalia. E da lì insomma inizia poi tutta... E lì c'è questa descrizione di questo lavoro di bambino. La drammaticità dei giorni del... Diventa grande perché appunto i genitori, poi la madre muore, il padre col quale lui aveva un forte legame impazzisce e finisce nel manicomio che lui manovale aveva costruito, quindi c'è anche questo aspetto. Da ultimo la patria matrigna che lo ha costretto a essere sfruttato all'estero, che l'ha costretto a lavorare perché i genitori... Lo chiama però a fare il soldato. E fa il soldato dove si prende la spagnola e nell'ottobre del 1918, cioè un mese prima della fine della guerra, lui muore. Poi i nostri telespettatori avranno modo di leggerlo perché il premio poi consiste anche nella pubblicazione, pubblicazione, certo. del diario vincitore. Ho pochissimi secondi, però volevo segnalare che tra le pubblicazioni che sono state presentate nei giorni scorsi a Piave Santo Stefano e che si possono acquistare, sostenendo quindi anche l'archivio dei diari stesso, c'è la forza delle memorie, il libro di Camillo Brezzi, Patrizia Gabrielli, l'archivio dei diari di Piave Santo Stefano. Che bellissimo finale, anche della sua trasmissione. No, vabbè, il libro ci ha fatto molto piacere farlo, è un po' nel clima al quale ci stiamo a propinquando. L'anno prossimo sarà il centenario della nascita di Saverio Tutino, il fondatore dell'archivio, quindi ci saranno numerose iniziative. In questo libro si parte proprio da Saverio Tutino, si parla ovviamente dell'archivio e dei diaristi e delle diariste, di come si può fare storia con i diari, come molti studiosi e studiosi che stanno facendo. Grazie al professor Camillo Brezzi di essere stato con noi, una brevissima pausa, poi torniamo insieme.